Lunedì 6 giugno, ring speciale elezioni, la maratona elettorale per scoprire chi saranno i nuovi inquilini del municipio di Trieste. Allora ricordatevi, a partire dalle 7, sveglia Trieste con la rassegna stampa e poi dalle 9.30 lo speciale ring. Ospiti, commenti, in diretta e tutti i risultati per sapere il futuro di questa città. Come sempre, Tele4 a disposizione di Trieste. Non dimenticatevi, lunedì, la maratona elettorale.